Toccare ferro, dice Massimo, con una battuta non basta per proteggere il cuore. Fare attività fisica, ad esempio, è un ottimo modo per prevenire le malattie cardiache. Per questo, dal 19 al 26 settembre, Massimo Sainato, testimonial dell'iniziativa Cuori in Cammino, percorrerà il Piemonte a piedi, partendo da Pinerolo, per arrivare fino al Parco del Valentino a Torino, dopo aver fatto tappa ad Aosta, Biella, Novara, Alessandria e in due comuni del Cunese. All'iniziativa realizzata in collaborazione con l'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri del Piemonte, chiunque può partecipare gratuitamente, parto e si è salvato per il rotto della cuffia perché si trovava già all'interno del pronto soccorso di un ospedale. Da quella rinascita e da quella nuova vita ho pensato di voler fare della mia storia un messaggio da portare a tutti coloro come me, che potrebbero esserne vittime inconsapevoli, cercando di stimolarli a salvaguardarsi dai fattori di rischio prevalenti. E quindi l'attività fisica e il camminare sicuramente è uno dei tocca sana per cercare di prevenire le patologie cardiovascolari. Tutti in moto e possibilmente in Arle il 26 e il 27 di settembre per il...